Per guidare un'auto con cambio automatico, per prima cosa allaccia la cintura di sicurezza e regola tutti gli specchietti in modo da avere la giusta visibilità. Regola il sedile in modo da stare comodo e raggiungere facilmente i pedali. Poi premi il pedale del freno con il piede destro, in modo che l'auto non si muova all'avvio. Quindi accendi la macchina inserendo le chiavi nell'accensione e girandole in senso orario. Posiziona le mani sul volante alle ore 9 e 15. Se devi fare marcia indietro per uscire da un parcheggio, sposta la leva del cambio da Park a Reverse e guarda oltre la tua spalla in modo da poter vedere cosa c'è dietro di te. Dovresti sempre guardare dietro e controllare gli specchietti ogni volta che fai retromarcia o cambi corsia. Togli delicatamente il piede dal pedale del freno in modo che l'auto inizi a muoversi, ma non premere sull'acceleratore. Quando sei in retromarcia, devi girare il volante nella direzione opposta a quella in cui vuoi andare. Per girare a sinistra, devi ruotare il volante verso destra e viceversa. Una volta uscito dal parcheggio, premi il pedale del freno e cambia la marcia da Reverse a Drive. Per andare in avanti, togli il piede dal freno e premi lentamente l'acceleratore. Più si preme sull'acceleratore, più si va veloce. Tieni entrambe le mani sul volante mentre guidi e giralo nella direzione in cui vuoi andare. Se devi fare una svolta molto stretta, per esempio a un incrocio, incrocia le mani l'una sull'altra mentre giri il volante. Poi, quando è il momento di raddrezzare le ruote, allenta la presa sul volante in modo che torni alla posizione di partenza. Ricordati di mettere la freccia per avvisare gli altri automobilisti ogni volta che devi svoltare o cambiare corsia. Per fermarti, lascia l'acceleratore e premi lentamente il pedale del freno. Quando sei pronto a parcheggiare, sposta la leva del cambio da Drive a Park, quindi spegni l'auto girando le chiavi nell'accensione.